Buongiorno, io frequento il Cicerone da Sala Consilina e quest'anno, come ha detto il prof dal 2013, partecipiamo alla Explorer Senior in questo caso. La squadra è composta da quattro persone, io sono un gomborende e qua ne troviamo un altro, Angelo Scorsino. Buongiorno, buongiorno. E speriamo che vada bene per l'ultima gara.